La giovanile di Baudu Ma quello è un torneo per i ragazzini di strada, perché ti importa? Perché De Brito assisterà alla finale Valdemar De Brito, l'osservatore Qui dice che cerca giocatori per il Santos Football Club Cavolo, appena vede che gioco come Di Stefano, passo professionista, bello Aspetta che mi veda giocare come Puskas E a me come Mazzola E a me come Pelé Che cavolo è Pelé? Il portiere del Vasco Bilè, imbecille, si chiama Bilè Solo un idiota scambierebbe il nome di Bilè con Pelè Possiamo chiamare lui Pelè Ehi Pelè, stoppa questa Signor José, la prego, perdoni mio figlio A me? Ma è lui che ha... Dico, chiudi subito la bocca Mi scusi, non la porterò più Mi scusi, è l'ai Sì 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 Sì